Un violentissimo urto ha ridotto ad un ammasso di lamiere, pezzi di plastica sparpagliati per tutta la carreggiata, lo scooter di grossa cilindrata di un uomo di 47 anni di origini tedesche ma residente a Fano nella frazione di Falcineto da diverso tempo. L'uomo alle 14.30 di oggi in sera alla sua moto stava percorrendo in direzione Monte Mare via Papiria quando per ragioni ancora in fase di valutazione da parte del reparto infortunistica della polizia locale di Fano è entrato in collisione con la parte posteriore destra all'altezza del civico 56 con un Audi A3 al cui volante si trovava un uomo di 63 anni di apecchio che procedeva in direzione opposta verso Monte. Per l'urto il centauro è stato scagliato ad una decina di metri dal punto d'impatto e lì è rimasto sino all'arrivo del 118 che valutate le sue condizioni ha subito allertato l'elisoccorso che in pochi minuti è atterrato in un campo poco distante ed ha trasportato il 47enne all'ospedale regionale di Torrette. In gravi condizioni il motociclista ha riportato gravi fratture agli arti ma è cosciente e non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti oltre ai sanitari del 118 di Fano anche le pattuglie della polizia municipale che oltre ai rilievi di legge hanno opportunamente regolamentato il flusso del traffico particolarmente intenso.